bene amici video super flash anzi super short perché guardate lo vedete anche voi in sovra impressione sono partite a sorpresa questa mattina di sabato le ricariche finalmente della carta acquisti e carta acquisti il bimestre marzo aprile quindi volevo avvisarvi in super diciamo anteprima praticamente in tempo reale fatemi sapere nei commenti se avete anche voi state cominciando a ricevere le ricariche a il tutto poi continuerà in modalità spezzatino queste sono le prime i primi flussi poi vedrete che man mano nel corso del mese arriveranno in più tranche detto questo il mio dovere l'ho fatto un saluto da mister lull grazie